...de fuochi a Terra Mia perché deve tornare la voglia e la passione di riprendersi il proprio territorio. Lo ha detto il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa che oggi a Napoli ha ricevuto il premio Euro Mediterraneo. Il servizio è di Rino Genovese. Oggi significa cambiare secondo me il paradigma, cioè passare da Terra dei Fuochi che è stato un marchio infamante per un territorio che peraltro non meritava nemmeno, passare a Terra Mia, cioè riappropriarsi del proprio territorio. Da generale in prima linea nella lotta contro la Terra dei Fuochi a Ministro per l'Ambiente Sergio Costa torna nella facoltà che lo vide studente agraria a Portici e annuncia la svolta. Terra Mia, le cui norme saranno presentate nelle prossime settimane in Consiglio dei Ministri e ne anticipa le priorità. Messa in sicurezza, bonifiche, ma anche emarginare l'eco criminale, l'eco mafioso per fare in modo che non ci sia più una Terra dei Fuochi. Il premio Euro Mediterraneo è assegnato ogni anno dall'Accademia Ercolanense, la più antica accademia culturale campana, a chi maggiormente si è distinto per il riscatto della nostra regione. Cultura significa innanzitutto lotta per la legalità. Grazie all'impegno di uomini come Sergio Costa stiamo ricostruendo la più bella immagine della campania nel mondo. E agli studenti che al Ministro hanno presentato le migliori tesi in dottorato di ricerca, l'assicurazione. Nella legge di stabilità del 2019, quella che dal 2 gennaio è diventata legge, io ho messo un fondo per la ricerca e per lo studio nelle materie ambientali e territoriali. Vuol dire che le università, il CNR e tutti gli istituti di ricerca possono dare ancora qualcosa in più perché ci sono delle risorse supplementari.